Il tuo consulente agrometeo ti dà il benvenuto su Angro Notizie, il tempo previsto fino al 12 di luglio. Due distinte fasi, una prima fase con tempo bello e soleggiato su tutta l'Italia, merito della presenza dell'anticiclone nordafricano sulla penisola, il quale tenderà, come vedete da questa immagine, a saldarsi con alta pressione già presente da molte giorni sull'Europa centro-occidentale. Bene, questo anticiclone nordafricano ovviamente porterà caldo da prima sulla Sardegna, poi sul resto d'Italia con anomalie al di sopra della meglia, anomalie positive di 4-6 gradi sulle regioni di nord-est, sull'interno della Toscana, Lazio e Umbria, sulle regioni meridionali, in particolare su Puglia, Materano, Calabria Ionica e soprattutto sulle isole maggiore. Più riparate dal caldo saranno le regioni di nord-est e quelle del medio-basso adriatico, almeno lungo le coste. Insomma, le temperature saranno al di sopra della meglia decisamente. L'apice del caldo verrà raggiunto intorno al 30 di giugno sul nord Italia, mentre verrà raggiunto intorno al 2-4 di luglio sul resto d'Italia e il caldo, l'anticiclone, verrà cancellato dall'arrivo di una perturbazione atlantica tra il 4 e il 5 luglio che porterà rovesce temporale sulla Valpadana a nord del Poe e sulle Alpi. Bene, poi una seconda fase tra il 6 e il 12 luglio. Tempo un po' inistabile, cosa intendiamo dire inistabile? Che nelle ore pomeridiane qua e là, non solo sui rilievi ma anche lungo le zone vicine a rilievi, potrebbe svilupparsi qualche temporale. Anche se sarà presente in questa fase l'amico anticiclone dell'Azorra. Per tutto il periodo sarà presente l'anticiclone dell'Azorra, il quale però non è così intenso da impedire, che qualche perturbazione atlantica, uno o due al più, possono lambire le Alpi portando qualche temporale sulle Alpi, possono lambire il nord Italia e portando qualche temporale al nord delle Alpi, possono arrivare fino a Balcani e poi scivolando sull'Adriatico possono portare qualche temporale sulle regioni del medio Adriatico. In compenso l'anticiclone dell'Azorra porterà temperature gradevoli, ossia nella media prevista per questo periodo dell'anno. Ovviamente temperature con massimo intorno a 30-32 gradi, come dovrebbe essere tipica di questo periodo. Termino qui, un caro saluto ancora da Maria Giulianci, dal pulsante sottostante puoi visualizzare le previsioni di casa tua.